Prosegue il lavoro della RAP per smaltire i rifiuti pregressi accumulati in diverse zone della città e per ripristinare le normali attività previste dagli itinerari da Cassonetto. Nella giornata di ieri tre squadre con al seguito palameccanica e compattatore sono intervenute allo Zen 2 e allo Zen 1, in particolare in via Lanza di Scalea, via Fanno, via Zappa, via Dune, via Duse, via Cotrugli e via Cerboni. Un'altra squadra ha raccolto i rifiuti accumulati in via Mormino, Dalvise, Franchi, Patti e via Pisano. Ripuliti tra il pomeriggio e la sera di ieri anche i cassonetti a Brancaccio, Bonagie e Falso Miele. Questa mattina invece le squadre della RAP si sono dedicate al quartiere Ballarò. Per la precisione sono intervenute in via Verga, via Volio e via Musco e poi ancora quattro postazioni di via Villagrazia e San Giovanni Apostolo, da definire gli interventi in via Barisano da Trani, via Camarrano e via Calandrucci. 3.000 infine gli ingombranti raccolti nelle ultime ore dalla RAP.